Il progetto Rayer è un progetto molto buono secondo me perché i bambini hanno un ottimo spunto avendo la Rayer come esempio da seguire. Noi come Pulcini 2008-2009 è farli divertire e farli giocare e farli sfogare. Poi per quanto riguarda la società e quindi anche la Serie C speriamo sempre che vada bene ed è un ottimo budget secondo noi avere un'ottima squadra come la Serie C. L'etica è la cosa indispensabile in tutti gli sport non solo nel basket se non hai rispetto degli avversari puoi cambiare il gioco.